Tutto come previsto per l'arrivo delle nevicate. Questa volta c'è da dire il Comune di Chieti non si è lasciato sorprendere scuole chiuse di ogni ordine e grado o nonché gli asili nido per la giornata di oggi. Inoltre in tutta la città sono entrati in funzione gli spazzanevi per lo meno per liberare le strade e dare la possibilità ai cittadini di poter circolare. Anche la villa comunale, come le immagini vi mostrano, c'è stato uno spazzanevi in attività. L'unico neo, se di neo si deve parlare e non di scandalo, è il mancato funzionamento della scala mobile in tutte le direzioni. Soltanto una rampa è rientrata in funzione peraltro da pochi giorni. Una situazione che ovviamente i cittadini lamentano perché si tratta di un impianto che serve tantissimi studenti. Oggi le scuole erano chiuse, certamente, ma i cittadini che dovevano raggiungere la parte alta della città non hanno avuto certo vita facile. Salire quelle scale e quelle scalinate è qualcosa di pericoloso, soprattutto con la situazione atmosferica che c'è. Comunque, se la prima giornata di neve attesissima non ha prodotto grossi grossi danni alla città, tutto sembra sotto controllo.